Ci giungono foto di lavori non consoni alla legge 11, lavori di segnaletica stradale, di rifacimento strisce, passaggi pedonali, siamo proprio letteralmente fuori. Operai che invece di occuparsi di interventi per la forestazione si ritrovano a dover far lavori per i singoli comuni come la tinteggiatura delle strisce pedonali. A testimoniare diversi episodi ci sono alcune foto che i sindacati di categoria, Fai Cisla, Flai Cigelle, Willa Will, hanno raccolto in un dossier. Queste problematiche che oggi facciamo richiesta al prefetto sono state già discusse davanti al prefetto. C'era l'impegno da parte di questa giunta ad evitare che i lavoratori facessero queste attività, non proprio forestazione, perché di fatti è un danno alla forestazione quello che si sta facendo. Non è viabilità forestale, non è pulizia dei sottoboschi, non è verde pubblico, è tutt'altra cosa. La prossima mossa delle parti sociali che tra l'altro non riescono ad avviare un tavolo di confronto con i vertici di via Fontana Angelica è di interessare il prefetto di Avellino, Maria Tirone. Nell'Ufida, in questa comunità montana, non si riesce ad avere un tavolo di confronto per discutere di quello che deve essere l'andamento. Noi come organizzazione sindacale denunciamo che cosa? Denunciamo il mancato confronto, sta portando a far sì che ci arrivano anche chiamate di lavoratori che rischiano la vita tutti i giorni. Basta fare qualche foto a lavoratori che lavorano sulle strade provinciali senza i dovuti segnali di salvaguardia per questi lavoratori. È opportuno che su questo ci sia un confronto e che i lavoratori vengono formati, date a loro gli equipaggiamenti utili per poter fare questa attività. Intanto il comparto continua a soffrire per i ritardi negli accreditamenti da parte della regione Campania e proprio ora in estate il servizio antincendio ha subito tagli, passando da 4 milioni dello scorso anno a 1 milione e 600 mila euro circa. Anche per questo i sindacati scenderanno in piazza il prossimo 12 luglio davanti a Palazzo Santa Lucia. Il governatore De Luca non ha mandato ancora i suoi fondi per quanto riguarda il 50% relativo all'anno del 2018, in più manca l'intero anno del 2019. Varie comunità montane sia in provincia di Avellino ma in tutta la regione Campania che partono da 6-7 mensilità arretrate sia per quanto riguarda gli OTI che gli OTTD.